Allora il seme che abbiamo visto, questo seme viene custodito presso l'isola Svalbard in Norvegia dove c'è il famoso bunker dell'artico, il bunker dell'eredità dove vengono tenuti i semi custoditi a meno 18 gradi in sottoterra, custoditi i semi che vogliono recuperare in caso di pandemie o in caso di disastri atmosferici, come è successo in primavera per il grano dell'Ucraina che hanno dovuto attingere perché purtroppo erano stati distrutti i semi dai rossi, per cui hanno attinto da questo bunker dell'eredità. Oltre al bunker dell'eredità, questo seme viene custodito anche presso l'Università di Pavia, la banca del seme del professor Rossi, dove anche lì ogni tanto, ogni 4, 5, 6 anni viene sostituito con quello fresco, ma comunque viene anche lì custodito, non in sottoterra, non come in Norvegia, ma comunque in celle frigorifere a meno 18 gradi, sempre in caso di necessità o che vada perso questo seme. Posso dire che è l'unico seme al mondo depositato presso il bunker dell'eredità. No, non è vero.